Un percorso virtuoso che parla di economia circolare, ovvero come un rifiuto possa raggiungere una nuova vita ed essere rimesso sul mercato da aziende che fanno del riciclo un lavoro, salvando così l'ambiente e creando una nuova filosofia aziendale. A Pescara ha fatto tappa il treno verde pensato in sinergia da Trenitalia e Lega Ambiente, un viaggio nell'intera catena di riciclo dove ogni carrozza rappresenta un esempio virtuoso da condividere. Il messaggio importante è quello di far capire che si passa da un'economia lineare a quella circolare. Economia circolare significa che l'azienda all'interno del suo ciclo produttivo si autorigenera, ovvero ciò che è rifiuto per qualcuno diventa per loro una risorsa, quindi il rifiuto invece di andare in discarica viene riutilizzato e rimesso nel ciclo produttivo un'infinità di volte. Quando si parla di economie virtuose nel campo del riciclo, l'Italia dove si attesta? Questo è sicuramente uno sprono per l'Italia per capire che l'economia sta girando da un altro verso. L'economia circolare promette di creare 580.000 posti di lavoro in Europa entro il 2030, tante le declinazioni virtuose da un'azienda bresciana che recicla reti da pesca per trasformarle in nylon, ai produttori di caffè che trasformano in funghi commestibili i fondi utilizzati, a chi trasforma pneumatici in campi da calcio, da tennis, pareti assorbi rumore, a chi realizza vasi e piatti con gli scarti organici degli animali. Noi abbiamo fatto una cosa che è considerata in Italia e in Europa ormai una buona pratica, e cioè abbiamo fatto la carta di Pescara. Abbiamo lavorato con le imprese, con le università, col sistema della ricerca e con le rappresentanze dei lavoratori, abbiamo lavorato a costruire una strategia che punta sull'industria sostenibile. Noi puntiamo come regione a un'idea che essendo contemporaneamente la regione dei parchi, cioè la regione che è il più alto territorio protetto d'Europa, ma anche una delle regioni più industrializzate d'Europa, che ambiente e industria possano convivere, anzi addirittura possano integrarsi e agevolarsi. Pescara oggi ha ospitato imprenditori scolari che provenienti anche da fuori regione per sensibilizzare le buone pratiche che rispettano l'ambiente e creano economia. La questione ambientale è anche con riferimento alle politiche che ciascuno da questo ente all'ente regione può mettere in campo per garantire una migliore qualità dell'aria, una miglior qualità dell'acqua, una miglior qualità del nostro ambiente complessivo, attorno al quale io credo oggi si comincia ad acquisire una consapevolezza e una maturità maggiore.